Importanti novità in questi primi giorni dell'anno all'Università di Camerino. Nei giorni scorsi infatti il rettore Unicam Flavio Corradini ha ricevuto in Ateneo i tecnici delle province autonome di Trento e Bolzano che hanno scelto di sostenere l'Università di Camerino attraverso la donazione di una struttura di circa 400 alloggi per gli studenti. Si è trattato di un incontro estremamente positivo, ha affermato il rettore Corradini, nel corso del quale sono stati definiti gli ultimi dettagli del grande progetto di costruzione di alloggi permanenti per gli studenti dell'Università di Camerino che saranno realizzati nei prossimi mesi nell'area adiacente il campus universitario. Un progetto estremamente importante che consentirà in parte di sopperire alla mancanza di alloggi nelle abitazioni private situate nel centro storico di Camerino. A primavera dunque si vedranno i frutti di questa importante iniziativa messa in campo dalle province autonome di Trento e Bolzano con il sostegno del commissario straordinario alla ricostruzione Vasco Errani.